ok fammi finire di scrivere le ultime cose perfetto e anche il video per oggi è pronto così non è vuoto cioè si c'è ancora qualche angolo vuoto però piano piano mettiamo metteremo tutto episodio 2 c'era già quel supermercato che è quella cosa shop c'è una struttura lì una struttura sì comunque questo è un nuovo quartiere ci stanchi magari nasce qualche nuova struttura ovviamente qualche negozio non lo so non vedere senza la macchina perché se no ok fino a qua benzina hanno anche finito sì hanno finito sembra non c'è più scritto lavoro in corso vabbè ora vorrei entrare però c'è pure delle indicazioni macchine grandi da là le piccole da qua ok shop e telefoni hbg vediamo in allestimento sì in effetti è un po' vuoto ma ci sta anche in allestimento se abbiamo capito è vuoto praticamente ah no no c'è qualcosa delle patatine qua questi sono tipo di giocattoli sì qua pesci vendolaio nomi proprio d'eccezione quel pesce ma sicuro che a me non sembra molto fresco ma sarà una mia impressione pesci frutti vendolaia ma dei nomi un po più normali no eh frutta almeno questo minimo più fresca sembra buongiorno 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 stia calmo nessuno le telefoni e telefonia per telefonia si è tenuti così mi sembra non vorrei sbagliarmi questo lo so e questo sembra un po' vecchio 8 su telefono è però buongiorno ho capito si ma stia calmo madonna mia questa la cassa buongiorno buongiorno ma c'è andiamo e andiamo vabbè chissà sto quartiere diventerà un minimo abitabile con magari qualche negozio oppure sarà morente si rispetta bene però beh guardo un po di mineflix telecomando ok allora fammi scrivere le ultime cose che è eva bemo ma io sono in creative ma già sta in survival con c'è questo qui il muzzaro ciao